Musica Benvenuti al TG10, oggi l'apertura la dedichiamo alla pagina della cronaca giudiziaria, vi riferiamo del sequestro di beni per un valore di circa un milione di euro operato a Gela da Carabinieri e guardia di finanza, sotto chiave sono finiti una pizzeria, terreni, autovetture riconducibili ad un esponente della famiglia Emanuello, più volte arrestato in numerose operazioni con l'accusa di estorsione e traffico di droga. Legato al clan di Cosa Nostra, famiglia Emanuello è in carcere da quattro anni, coinvolto nelle operazioni antimafia denominate tagli pregiati, tetragona, mercante in fiera per associazione mafiosa, estorsioni, traffico di droga, il giulese Nicola Liardo, 42 anni, aveva un patrimonio che nelle ultime ore è stato messo sotto chiave da Carabinieri e Guardia di Finanza. La misura di prevenzione del sequestro patrimoniale è stata emessa dal Tribunale Misure di Prevenzione di Caltanissetta che ha accolto la proposta della Procura della Repubblica del Capologo in Seno. Il valore dei beni mobili ed immobili di un intero complesso aziendale è di circa un milione di euro. La complessa indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, ha visto una stretta e costante collaborazione tra Carabinieri e Finanza nella ricerca di fonti di prova e della curata e compiuta dimostrazione della sproporzione tra reddito e patrimonio del nucleo familiare di Liardo. Sottoposti a sequestro sono finiti due immobili che si trovano nel centro storico di Gela, tra cui la casa di abitazione della famiglia del 42enne. Quattro terreni agricoli che si estendono per diversi ettari situati nelle contrade Manfria e Giblia Muto nell'Agro Gelese. Quattro veicoli a motore per un valore di 25 mila euro circa e la pizzeria Tavola Calda Spidipizza di Via Venezia. Le operazioni di sequestro hanno visto impiegate simultaneamente pattuglie del nucleo di polizia tributaria di Caltanissetta e della reparto territoriale di Gela dell'arma dei Carabinieri nei comuni di Caltanissetta e Gela. Secondo quanto ricostruito dall'inchiesta, l'azione criminale di Nicola Liardo era stata tanto pervasiva da infiltrarsi, così è chiarito nel provvedimento di sequestro, nella gestione dell'attività. In questo caso, anche se prestanome gestivano il locale, i proventi, ritengono gli inquirenti, servivano a sostenere la famiglia di Liardo. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, i beni sequestrati sono stati affidati ad un apposito amministratore giudiziario in attesa della confisca. Così come preannunciato qualche giorno addietro, è stata inviata al Presidente della Regione, Rosario Crocetta, agli assessorati ed enti regionali di competenza e al Direttore regionale della Protezione Civile, la nota con la quale il Comitato Porto del Golfo di Gela chiede di organizzare con urgenza un incontro presso la Presidenza della Regione Sicilia per verificare lo stato di avanzamento dell'iter delle autorizzazioni per l'avvio dei lavori al porto. La nota è stata firmata dal Presidente del Consiglio Comunale Alessandrasia e dal Vice Sindaco Simone Siciliano. Il Comitato inoltre invoca l'intervento dei deputati regionali gelesi, Giuseppe Arancio e Pino Federico e di tutta la politica locale. E ora parliamo delle novità che interessano a Gela e ai lavoratori ex reddito minimo di inserimento. Le imprese che si aggiudicheranno i prossimi appalti al Comune di Gela dovranno rispettare una clausola che prevede l'assunzione di lavoratori ex RMI nella misura del 20%. E quanto hanno detto questa mattina il Sindaco Domenico Messinese, il Consigliere Comunale Indipendente Carmelo Casano ed il Capogruppo Consiliare di Forza Italia, Salvatore Scerra, durante un incontro con i lavoratori del reddito minimo di inserimento. Oggi abbiamo reso pubblico una disposizione che è stata inviata a tutti i settori per poter inserire all'interno dei bandi di gara l'utilizzo dell'articolo 35 della legge regionale sui lavoratori precari del reddito minimo di inserimento. Cosa prevede questa legge? Prevede che il 20% dei lavoratori per i nuovi cantieri devono essere presi all'interno di questo bacino per cominciare a stabilizzare persone che da 20 e più anni sono di fatto lavoratori precari. Considerando l'apertura di tanti cantieri previsti con il patto per il Sud, mi è sembrato corretto, anche dietro indicazioni del Consigliere Casano e del Consigliere Scerra, che dialogano anche dietro la spinta degli RMI, di poter inserire questo articolo all'interno dei nuovi bandi di gara per dare questa opportunità in più a delle persone che da molti anni di fatto sono in una situazione di precariato e dannogli l'opportunità di poter finalmente avere un lavoro stabile. Oggi abbiamo avuto questa opportunità dopo che il Consigliere Scerra abbiamo fatto la richiesta all'inserimento dell'articolo 35 della finanziaria della regione siciliana. L'articolo 35, ripeto, è un'opportunità, significa che ogni RMI può scegliere di andare a lavorare se viene chiamato all'edit dove è riservato il 20% dei posti. Non è che è detto che ci debba andare per forza, quindi questo malumore che è successo tra qualche RMI l'abbiamo cercato di spiegare e finalmente siamo raggiunti alla spiegazione esatta, ci siamo fatti capire. La politica risponde ai problemi, in questo caso, degli ex RMI, abbiamo ascoltato le loro richieste, abbiamo attuato l'articolo 35 sollecitando il sindaco, di questo lo ringraziamo. Questo significa fare il bene comune, non guardare i colori politici, in questo caso sia io che faccio parte di uno schieramento che è l'indipendente Casano, abbiamo sollecitato il sindaco affinché venisse attuato l'articolo 35. Presentata a primo firmatario il Consigliere Comunale di un'altra Gela, Salvatore Sammito, un'interrogazione con la quale si chiede alla Giunta Comunale di intervenire per rendere più vivibile il quartiere Giardinelli ed in particolar modo le vie Martinica, Bahama e alcune traverse adiacenti. Nell'interrogazione si fa presente quanto siano diventate indecorose le condizioni in cui si trova la zona. I residenti riferiscono delle condizioni di pericolo in cui vivono delle gravi condizioni igienico-sanitarie a causa della presenza di alte sterpaie e causa di incendi in estate dove trovano rifugio e condizioni a loro favorevoli cani randaggi, topi, zecche e serpenti nel periodo invernale. A causa delle piogge la situazione si aggrava ulteriormente, le strade diventano non percorribili sia a piedi che con le auto causando gravi disagi. Uno quartiere, afferma Sammito, abbandonato a se stesso. Si intitola Gela, le radici del futuro, lo spettacolo teotrale dello scrittore e sceneggiatore Jacopo Fo, il figlio di Dario Fo e Fran Carame, che sarà portato in scena domani al Teatro Eschilo di Gela con il patrocinio della regione siciliana, del Museo archeologico, dell'amministrazione comunale e dell'Eni. Si tratta di un monologo con cui l'autore ripercorre la storia di Gela, definita la Londra dell'epoca ellenistica, dalla sua fondazione, VII secolo a.C., al periodo di Federico II, ai giorni d'oggi, con il supporto documentale di foto e di video. Sarebbe bello e utile per la città creare delle iniziative costruendo un gruppo di giovani, formandoli e utilizzando il teatro come strumento per raccontare la città di Gela, come strumento per sviluppare poi la notorietà di Gela, la visibilità per cui il turismo, per cui i posti di lavoro, eccetera. In questo momento io vengo qui per vedere se questa cosa può interessare. Eni mi ha dato la possibilità di fare questo test, questa indagine e vediamo se ci fosse interesse sarebbe bello fare questo tipo di lavoro. È l'inizio di un progetto di collaborazione di Jacopo Focco nella società gelese, promosso dall'Eni alla ricerca di idee, proposte, suggerimenti e di un lavoro d'insieme storico, etnico, culturale, già avviato con scuole ed associazioni per la formazione di un gruppo creativo da cui potrebbero uscire iniziative di ogni tipo. Un libro, una commedia, un documentario, un film, promozioni turistiche, pacchetti di offerte per itinerari del turismo in Sicilia che prevedano una tappa a Gela. Io sono venuto qui a Gela 21 anni fa con mia moglie in viaggio di nozze, mandato da mio padre proprio a forza perché io ero andato a Grigento a vedere i templi e dicendo vai lì che c'è una nave greca straordinaria. Io sono arrivato qua, il museo era chiuso da non so quanti anni, non c'era nessuna possibilità di vedere questa nave e così mi è sempre restato questo punto interattivo di questa strana città che ha un patrimonio incredibile e che non lo rende visibile. Per cui quando mi è stata proposta la possibilità di fare un'iniziativa culturale qua mi ha molto interessato anche perché Gela io credo che più che avere una cattiva fama non è conosciuta. E ieri Jacopo Fo ha incontrato il presidente del Consiglio Comunale Alessandra Ascia un confronto più che un incontro e l'inizio di un progetto di collaborazione di Jacopo Fo con la società gelese ha detto Alessandra Ascia e noi come istituzioni abbiamo il dovere di promuovere qualsiasi forma di arte e cultura puntando proprio sulle nostre tradizioni e radici. Il lavoro d'insieme che sta avviando Jacopo Fo con associazioni scuole è interessante. L'obiettivo è quello di formare un gruppo creativo permanente da cui fare emergere iniziative concrete. Appuntamento a Gela con Michele Mirabella, scrittore, attore, regista. Nell'ambito delle iniziative promosse dalla libreria Mondadori in collaborazione con l'assessorato comunale alla cultura. Mirabella ha presentato il suo nuovo libro, Fabiola Polara lo ha intervistato. Noi incontriamo Michele Mirabella, il professore della televisione italiana, professore tre lauree e tantissime passioni. Un nuovo libro che è veramente molto interessante e che si apre, bisogna dirla, ad un pubblico assolutamente eterogeneo. Sì, tanto professore della televisione italiana è un titolo che mi è stato dato in una sbrigativa intervista molto meno accurata di quanto fosse necessario e io rifiuto questo titolo anche perché sarei alle prese con degli studenti un pochino riottosi, diciamo, un po' negligenti, se mi dice la televisione italiana sarebbe comodo, considerando che non è solo quello di servizio pubblico che tra l'altro avrebbe bisogno di molti professori in questo momento. Comunque, ecco, la domanda era rinverteva sul libro e ho scritto questo libro sulle insistenze della casa elettrice benevole che io ringrazio perché l'altra mia produzione letteraria è accademica, è destinata agli studenti della facoltà di lettere da ultimo, poi di sociologia, prima ancora di beni culturali, di varie università che avevano bisogno di una manualistica in grado di soddisfare le loro necessità accademiche. Da ultimo mi è venuto in mente sulle citazioni della Mondadori e anche di un mio studente, poi assistente perché si è laureato con me, e ho raccolto le divagazioni che spesso io, diciamo, diluivo nel corso della lezione per renderla meno noiosa, meno accademica, diciamo la verità, qualche volta noi siamo noiosi, noi professori. E allora ho raccolto queste spigolature sul mondo della classicità che sono più affini al mio passatempo preferito che è quello dello studio, che non alla mia professione attuale. E allora è venuto fuori questo canto a mio mouse con un titolo così beffardo. E l'intervista integrale a Michele Mirabella andrà in onda, in coda a questa edizione del telegiornale. Proseguono a Gela le iniziative per i festeggiamenti per l'Immacolata Concezione previsti per l'8 dicembre. Oggi alle 17, adorazione eucaristica animata dai ministri straordinari della parrocchia. Le iniziative si svolgono nella chiesa San Francesco d'Assisi, retta da Don Giorgio Cilindrello. Il trattamento multimodale del carcinoma del retto è il tema che sarà trattato domani dalle 9 nei locali di Villa Peretti a Gela. L'iniziativa è promossa dal coordinamento regionale ACOI, associazione chirurghi ospedalieri italiani. Si apre ufficialmente domani mattina in Piazza Roma a Gela l'appuntamento settimanale con il mercato di Campagna Amica. I stand dei produttori agricoli aderenti al progetto della Coldiretti incontreranno i consumatori in un sistema di filiera a chilometri zero. Ad inaugurare lo spazio alle 9.30 saranno il sindaco Domenico Messinese, l'assessore allo sviluppo economico Simone Siciliano ed i dirigenti della Coldiretti. Sono previste varie iniziative collaterali di intrattenimento come l'Opera dei Pupi alla quale sono state invitate a partecipare le scuole cittadine. Fai la cosa giusta, differenzia i rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi giovedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione il vetro nella pattumiera di colore verde in dotazione. Cosa conferire? Bottiglie prive di tappi, fiaschi senza paglia, barattoli e vasetti, bicchiere e brocche solo se in vetro, non cristallo, vetri vari anche se rotti, contenitori vari in vetro per alimenti e non, senza tappi e o altri materiali diversi. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recesi e piante domestiche, senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Un ambiente pulito e sano, basta un piccolo gesto. Ed eccoci in seconda parte del telegiornale, che apriamo parlandovi della festa di Santa Barbara. Anche Gela oggi ha festeggiato Santa Barbara, patrona della Marina Militare. Una messa è stata celebrata nella chiesa San Francesco, una ricorrenza, un momento di coesione e condivisione dello spirito di servizio che accomuna tutti gli appartenenti alla Marina Militare italiana. Presenti le autorità civili, militari e religiose, la celebrazione eucaristica è stata ufficiata da Don Giorgio Cilindrello. Oggi la festa di Santa Barbara, la nostra patrona, la patrona della Marina Militare e anche di altri corpi, sia dell'esercito, dei vigili del fuoco, che ricordo in quanto collaboriamo spessissimo. È una giornata di gioia, ma anche una giornata del ricordo, ricordo dei nostri caduti in mare, ricordo alle famiglie che stanno soffrendo in questo momento per la perdita dei loro cari e in particolare il mio pensiero va ai tre marinai che sono morti a bordo della motonave Sansolino. Auguri a tutti quanti e tanta serenità. Il Comitato Femminile della Pubblica Assistenza Procivis, Protezione Civile di Gela, in occasione delle prossime festività natalizie, organizza una raccolta di genere alimentari e prodotti da destinare alle famiglie indigenti. La raccolta di cibi non deperibili, rivolta a quanti vorranno aderire all'iniziativa, avverrà presso la sede della Procivis in via Ossidiana 23, a partire da oggi fino al 22 dicembre, dalle 15.30 alle 20.30. La distribuzione alimentare avverrà il 23 dicembre, subito dopo il consueto precetto natalizio dei volontari della Pubblica Assistenza Procivis, previsto per le 19.00. Con un piccolo gesto rendi più dolce il tuo Natale. Come ogni anno la sottosezione locale dell'Unitalsi propone la vendita dei presepi di cioccolato. Ad ogni acquisto sarà regalato un biglietto con diversi premi, tra cui il pellegrinaggio all'URD. Il ricavato sarà completamente devoluto per le iniziative a favore dei ragazzi in difficoltà. Appuntamento il 3, 4, 10, 11, 17 e 18 dicembre in piazza Umberto I, piazza San Giacomo, via Palazzi, angolo via Albania, viale Corte Maggiore davanti ai muretti di Macchitella e dinanzi alle parrocchie cittadine. Accertare gli standard sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nel sistema produttivo territoriale, promuovere una campagna di informazione, comunicazione e diffusione della cultura della sicurezza. Con questo intento fa tappa anche a Caltanissetta il progetto Lavoro Sicuro, promosso da Sicilia Impresa, presentato nel corso di una conferenza stampa alla Camera di Commercio, che ha patrocinato l'iniziativa assieme a Confindustria Centro Sicilia, al Comune di Caltanissetta, all'Asp, alla Direzione Territoriale del Lavoro, all'Inail, alla CGL, Cisleguil, al CNA, alla Confartigianato, Confesercenti, col Diretti e all'Associazione Generale Cooperativa Italiane di Caltanissetta. Un progetto che prevede, oltre alla somministrazione di un questionario alle imprese, i cui dati saranno resi noti lunedì 19 dicembre nel corso di una tavola rotonda che si terrà alla biblioteca Luciano Scarabelli, anche la realizzazione di una piattaforma informatica e di un sito web che raccoglieranno e analizzeranno dati, informazioni, norme e linee guida in supporto alle imprese. Riteniamo che sia importante, pur in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando, e quindi molto spesso viene intesa l'attività di prevenzione come un costo per l'impresa. Così non è perché si tratta di un'opportunità e soprattutto non solo riguarda la tutela dei lavoratori, ma lavorare in sicurezza significa anche essere più competitivi. Quindi l'azione è mirata non solo a fare il punto della situazione, quindi lo stato dell'arte, ma a individuare successivamente alla valutazione dei questionarii, quindi dei risultati, delle misure opportune perché l'impresa, laddove dovesse essere carente un'attività di prevenzione, potrà in qualche modo utilizzare strumenti anche di tipo finanziario che potranno in qualche modo consentire la messa in sicurezza e la messa in regime delle attività lavorative. Un tema attuale è quello sull'importanza della sicurezza del posto di lavoro, quello discusso a Caltanissetta all'indomani del tragico incidente avvenuto al porto di Messina che è costato la vita a tre marinai. I dati infatti sugli incidenti sul lavoro sono ancora significativi, nonostante si sia registrato un calo. In questo momento, per i dati raccolti negli anni passati, in qualche modo c'è stato un calo degli incidenti sul lavoro, ma è possibile anche attribuire questo alla mancanza di lavoro e quindi delle commesse, soprattutto nelle attività che riguardano i lavori pubblici. Tuttavia, in proporzione, diciamo che c'è stata una diminuzione degli incidenti, ma ancora molto sia da fare, perché quando si va a lavorare è naturale che non bisogna rischiare la vita, ma si va a lavorare per guadagnare. Torna il presepe vivente allestito dalla associazione SMAF, presieduta da Ghetano Davide Arizzi. Appuntamento ai prossimi 25, 26 e 27 dicembre e 5 e 6 gennaio nel quartiere Canalazzo a Gela, dalle 19 a mezzanotte. Un evento che porterà a riscoprire una tradizione secolare come il presepe e a valorizzare luoghi sconosciuti dal centro storico, ma con il loro antico fascino. All'ingresso del presepe via Casale, angolo Piazza Salandra, al visitatore verrà chiesto un contributo simbolico di 3 euro, che in parte verrà devoluto in beneficenza alla piccola casa della Divina Misericordia. Con il biglietto d'ingresso si avrà diritto alla consumazione tra una variegata scelta di prodotti tipici del nostro territorio. Appuntamento col cinema all'antitoto di Gela e in proiezione il film Ti amo Presidente, sono due gli orari, 19.30 e 21.30. E al Teatro Comunale Eschilo sabato 3 dicembre alle 17.15 e alle 21.15 è prevista la rappresentazione di Filumena Marturano di Edoardo De Filippo per la regia di Liliana Cavani. Il botteghino del teatro è aperto ogni giorno dalle 17 alle 20. E adesso, come abbiamo già anticipato, vi lasciamo all'intervista integrale realizzata da Fabiola Polara a Michele Mirabella, scrittore, attore e regista, presente a Gela nell'ambito delle iniziative promosse dalla libreria Mondadori in collaborazione con l'assessorato comunale alla cultura. Noi abbiamo concluso, grazie e arrivederci. Incontriamo Michele Mirabella, il professore della televisione italiana, professore tre lauree e tantissime passioni. Un nuovo libro che è veramente molto interessante, che si apre, bisogna dirla, ad un pubblico assolutamente eterogeneo. Sì, intanto professore della televisione italiana è un titolo che mi è stato dato in una sbrigativa intervista molto meno accurata di quanto fosse necessario e io rifiuto questo titolo anche perché sarei alle prese con degli studenti un pochino riottosi, diciamo, un po' negligenti, se mi dice la televisione italiana sarebbe comodo, considerando che non è solo quello di servizio pubblico, che tra l'altro avrebbe bisogno di molti professori in questo momento. Comunque, ecco, la domanda era, inverteva sul libro. E ho scritto questo libro sulle insistenze della casa elettrice benevole, che io ringrazio, perché l'altra mia produzione letteraria è, diciamo, accademica, destinata agli studenti della facoltà di lettere, da ultimo, poi di sociologia, prima ancora di beni culturali, di varie università, che avevano bisogno di una manualistica in grado di soddisfare le loro necessità accademiche. Da ultimo mi è venuto in mente sulle citazioni della Mondadori e anche di un mio studente, poi assistente, perché si è laureato con me, e ho raccolto le divagazioni che spesso io, diciamo, diluivo nel corso della lezione per renderla meno noiosa, meno accademica, diciamo la verità, qualche volta noi siamo noiosi, noi professori. E allora ho raccolto queste spigolature sul mondo della classicità che sono più affini alla mia, diciamo, al mio passatempo preferito, che è quel passatempo, se possiamo chiamarlo così, è quello dello studio, che non alla mia professione attuale. E allora è venuto fuori questo canto a mio mouse con un titolo così beffardo. Professore, ci sono degli accostamenti veramente geniali. Cleopatra come un'esperta, forse la più esperta nella storia dell'umanità, di marketing. Sì, ha fatto un esempio calzantissimo dell'assunto che l'editore ha ritenuto di dover mettere in copertina, in un mondo moderno spiegato dagli antichi. Perché? È vero, è vero. Cleopatra è proprio un esempio. Noi, cioè, la sensibilità collettiva, comune, considera Cleopatra una specie di virago, di donna affascinante, anche un po' apputtana, insomma, un po' amante di queste liquidità. Quello, dissoluta, direbbero, con meno violenza e volgarità gli storici. In realtà lei era un'astutissima intellettuale, che parlava le lingue, e tante che si è intesa perfettamente, non soltanto a letto, con Cesare e Antonio. Quindi evidentemente un po' di latino lo parlava. Consideriamo che sicuramente Antonio parlava il greco, e Cesare non era forse da meno, ma insomma, non tanto da poterci colloquiare amabilmente. Quindi era un intellettuale, era colta, sapeva di matematica, di aritmetica, conosceva il mondo. Era cinica e spietata nell'esercizio del potere. Basti pensare che fine ha fatto fare i suoi parenti, prima ancora che a se stessa. Ed ha misurato il mondo sulla base del suo girovita, direi, con un paradosso, insomma. Quante volte sta nel mondo, nella periferia del mondo, nel perimetro del mondo del mio girovita. Era una che contava molto sul suo fascino, che era quasi tutto intellettuale, ecco, diciamo. Non credo che sia stato proprio un fascino fisico. Donne belle ce ne sono sempre state. Ma donne belle che sapevano proporsi come Cleopatra a governare il mondo conosciuto, non proprio. Poi nel libro si parla di piramidi e tronisti. Sì, sono due paradossi. Cioè, uno è un paradosso. Le piramidi. Le piramidi sono nell'immaginario generale dei monumenti dei quali un'alta aliquota di quelli che le conoscono non sanno l'origine. No. Anche molti turisti appassionati conoscono poco delle piramidi. Quello che hanno detto le guide arabe sul posto. Ma che cosa siano state? La perfezione della loro misura. Ecco, il concetto che la piramide tanto si può edificare perché è una misura. Questa sfugge a molti. Come abbiano costruito le piramidi è sempre stato un segreto gelosissimo, conservato bene, dai maestri di scuola in vena di paradossi per attrarre gli alunni. Non è così. Si sapeva più o meno. Lei provi a mettere della sabbia in una forma di vetro, di trasparente o comunque di cartone e vedrà che avrà le misure della piramide. Poi le porterà, le allarga, le moltiplicherà e farà il progetto di una piramide. Ma quello che è straordinario è tutto il complesso culturale di dati e di proiezioni dell'immaginazione che è nelle piramidi. Progetti che io non padroneggio completamente. E chi lo fa che non sia proprio egittologo? E quindi io ne ho parlato. I tronisti sono nell'immaginario collettivo altrettanto famosi. E questo è veramente scandaloso. Che siano più conosciuti tronisti che non cheope. Secondo lei perché? Perché è una società nuova, affluente, che non si interroga molto più sulle proprie origini. E compie un crimine, del quale pagheremo delle conseguenze amarissime e dure. È una società che se potesse si farebbe il selfie collettivo, in una specie di annichilimento. Una società che non vada più ai libri, non ai libri fisicamente parlando di carta e di cartone e di copertina. No, ai contenuti di questa carta. Forse ci saranno altre forme di... Come dire, ci sono sicuramente altre forme, non forse, per distribuire, fare, veicolare il sapere. I saperi, ecco, mi auguro di sì. Sono scettico un po', perché sin dalla scuola, per poi arrivare alla società, ci si interroga molto poco, anzi per niente, sul nostro passato. Professore, parliamo di social network. Lei che cosa ne pensa? Lo dica in italiano, così io lo capisco. Io lo so perché parlo l'inglese. Perlomeno non parlo, ne esageriamo. Sono in grado di comprendere e di barattare due chiacchiere. Ma troveremo prima o poi un sinonimo, in onore anche alla lingua più bella del mondo. Social network, cosa vuol dire? Rete sociale, è allora. Rete sociale. Più o meno è quello che voleva dire, no? Qual è la sua opinione? Che è bellissima. E' usata male. Ecco, è usata malissimo. Solo per giocare, per le scherze, per la volgarità, per la... E' usata malissimo. E' come il mare. Non si può usare il mare per affogare. Si deve usare il mare come lo usava Odisseo. Per comunicare. Si dice che gli italiani ormai anche sui social network, su questa rete sociale, non leggano oltre la terza riga di un qualunque testo. Si dice così? E' peggio per loro. Perché accade questo, professore? Per la stessa ragione che ho tentato di spiegare prima, perché siamo talmente ossessionati dalla superficialità, dal consumo mordi e fuggi, dal tutto rapido e immediato, dal piacere, da questo edonismo imbecille, che non distinguiamo più, non dico che dobbiamo rispettare tutti lo stesso mondo di valori, per carità, ma uno deve avere un mondo di valori, deve sapere da dove veniamo, perché altrimenti non andrà da nessuna parte. Dicono proprio in Sicilia, ma il mio siciliano forse è ferato, non è corretto, ma io traduco, riferisco come l'ho sentito e mi ha fatto molto ridere. Chiddu che cerca, insomma, quello che cerca, colui che c'è, lo dica lei in Sicilia, colui che cerca quello che non sa, finisce che trova quello che non vuole. Come si dice? Chiddu che cerca consape trova chiddu che non vuole. Professor? Dobbiamo insegnare io in Sicilia. Ho avuto un po' di difficoltà con la seconda parte della frase. Questa necessità di apparire necessariamente sui social belli e felici, lei come la legge? Ebbè, come conseguenza di quello che abbiamo detto, no? Perché uno doveva apparire sul social in questi folli e sceme, infelice e sincero? Non è quello, è l'immagine che vogliamo dare, è un eterno ritratto di Dorian Gray, il mio prossimo libro che uscirà a giorni, si chiama Il selfie di Dorian Gray. Noi siamo, quello Oscar Wilde l'ha scritto un secolo e mezzo fa, la fine che avremmo, no, un secolo e mezzo è troppo, diciamo, 120-130 anni fa, la fine che avremmo fatto. Ma ti incontri la gente per la strada, mica ti saluti e ti stringe la mano e ti dice che cosa ne pensa, che ne so, della Sicilia o di Leonardo Sciascia o di come si mangia a Gela, che sarebbe già un argomento interessante. Ti dicono, facciamo una foto, perché dovrei fare la foto con te? Te conosco. Pretendono di affermare una conoscenza arbitraria e falsa, l'atto della foto è un'intimità, ma se io dicessi, scusi vieni a letto con me, alla prima donna che ho incontro, verrei arrestato, ma invece se dico facciamo una foto, no. Non si fanno le foto, la foto è la conseguenza finale di una lunga amicizia, no? Tant'è vero che se lei ricorderà le foto della scuola, quando le avrà fatte anche lei, non si facevano il primo giorno di scuola, no, devi aspettare la fine della scuola. Una l'anno e se andava bene era maggio, che si faceva anche festa e non facevi lezioni, scendevi in palestra, ti mettevi il fiocco nuovo, la professoressa si metteva il brolocco, il professore tirava dentro la pancia, quelli accosciati erano i più bravi in ginnastica e ti facevi la foto, perché in generale c'era una confidenza, non è che la facevi il primo giorno di scuola, quelle sono foto, si chiamano foto segnaletti, che le fanno la polizia e i carabinieri. Professore, lei continua a studiare, è la sua grande passione lo studio e ha lavorato moltissimo nella sua vita, continua a lavorare, ha ancora un sogno nel cassetto che vuole condividere con noi? Vorrei avere un cassetto, pieno di sogni, questo è il sogno nel cassetto, ce l'ho i sogni naturalmente, ma non riguardano me, arrivati a un'età certa e non a una certa età, si diventa saggi e si comincia a sognare, per le persone a cui vuoi bene. Grazie, adesso io le chiedo un autografo e una dedica. Grazie professore Mirabella, è stato veramente un grande piacere. Se vuole ci possiamo fare un selfie. Grazie. 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 Grazie.